di dino buzzati il disco si posò voce di lorenzo pieri era sera e la campagna già mezza addormentata dalle vallette levandosi lanugini di nebbia e il richiamo della rana solitaria che però subito taceva l'ora che sconfigge anche i cuori di ghiaccio col cielo limpido l'inspiegabile serenità del mondo l'odor di fumo i pipistrelli e nelle antiche case i passi felpati degli spiriti quando ecco il disco volante si posò sul tetto della chiesa parrocchiale la quale sorge al sommo del paese all'insaputa degli uomini che erano già rientrati nelle case l'ordigno si calò verticalmente giù dagli spazi esitò qualche istante mandando una specie di ronzio poi toccò il tetto senza strepito come colomba era grande lucido compatto simile ad una lenticchia mastodontica e da certi sfiatatoi continuò ad uscire zufolando un soffio poi tacque restò fermo come morto lassù nella sua camera che dà sul tetto della chiesa il parroco don pietro stava leggendo col suo toscano in bocca all'udire l'insolito ronzio si alzò dalla poltrona e andò ad affacciarsi al davanzale vide allora quel coso straordinario colore azzurro chiaro diametro circa dieci metri non gli venne paura né gridò neppure rimase sbalordito si è mai meravigliato di qualcosa il fragoroso e imperterrito don pietro rimase là col toscano ad osservare e quando vide aprirsi uno sportello gli bastò allungare un braccio là al muro c'era appesa la doppietta ora sui connotati dei due strani esseri che uscirono dal disco non si ha nessun affidamento è un tale confusionario don pietro nei successivi suoi racconti ha continuato a contraddirsi di sicuro si sa solo questo che erano smilzi e di statura piccola un metro un metro e dieci però lui dice anche che si allungavano e accorciavano come fossero di elastico circa la forma non si è capito molto sembravano due zampilli di fontana più grossi in cima e stretti in basso così don pietro sembravano due spiritelli sembravano due insetti sembravano scopette sembravano due grandi fiammiferi e avevano due occhi come noi certo uno per parte però piccoli e la bocca e le braccia e le gambe don pietro non sapeva decidersi in certi momenti vedevo due gambette e un secondo dopo non le vedevo più insomma che ne so io lasciatemi una buona volta in pace zitto il prete li lasciò armeggiare col disco parlottavano tra loro a bassa voce un dialogo che assomigliava ad un cigolio poi si arrampicarono sul tetto che ha una moderatissima pendenza e raggiunsero la croce quella che è in cima alla facciata ci girarono intorno la toccarono sembrava prendessero misure per un pezzo don pietro lasciò fare sempre imbracciando la doppietta ma all'improvviso cambiò idea ehi gridò con la sua voce rimbombante giù di là giovanotti chi siete i due si voltarono a guardarlo e sembravano poco emozionati però scesero subito avvicinandosi alla finestra del prevosto poi il più alto cominciò a parlare don pietro ce lo ha lui stesso confessato rimase male il marziano perché fin dal primo istante chissà perché il prete si era convinto che il disco venisse da marte ne pensò di chiedere conferma il marziano parlava una lingua sconosciuta ma era poi una vera lingua dei suoni erano per la verità non sgradevoli tutti attaccati senza mai una pausa eppure il parroco capì subito tutto come se fosse stato il suo dialetto trasmissione del pensiero oppure una specie di lingua universale automaticamente comprensibile calmo calmo lo straniero disse tra poco ce ne andiamo sai da molto tempo noi vi giriamo intorno e vi osserviamo ascoltiamo le vostre radio abbiamo imparato quasi tutto tu parli per esempio e io capisco solo una cosa non abbiamo decifrato e proprio per questo siamo scesi che cosa sono queste antenne e faceva segno alla croce ne avete dappertutto in cima alle torri e campanili in vetta alle montagne e poi ne tenete degli eserciti qua e là chiusi da muri come se fossero vivai puoi dirmi uomo a cosa servono ma sono croci fece don pietro e allora si accorse che quei due portavano sulla testa un ciuffo come una tenue spazzola alta una ventina di centimetri no non erano capelli piuttosto assomigliavano a sottili steli vegetali tremuli estremamente vivi che continuavano a vibrare o invece erano dei piccoli raggi o una corona di emanazioni elettriche croci ripeté compitando il forestiero e a che cosa servono don pietro posò il calcio della doppietta a terra che gli restasse però sempre a portata di mano si drizzò quindi in tutta la statura cercò di essere solenne servono alle nostre anime rispose sono il simbolo di nostro signore gesù cristo figlio di dio che per noi è morto in croce sul capo dei marziani all'improvviso gli evanescenti ciuffi vibrarono era un segno di interesse o di emozione o era quello il loro modo di ridere e dove dove questo sarebbe successo chiese sempre il più grandetto con quel suo squittio che ricordava le trasmissioni morse e c'era dentro un vago accento di ironia dio vuoi dire sarebbe venuto qui tra voi qui sulla terra in palestina il tono incredulo irritò don pietro sarebbe una storia lunga disse una storia forse troppo lunga per dei sapienti come voi in capo allo straniero la leggiadra indefinibile corona oscillò due tre volte pareva che la muovesse il vento o deve essere una storia magnifica fece con condiscendenza uomo vorrei proprio sentirla balenò nel cuore di don pietro la speranza di convertire un abitatore di un altro pianeta sarebbe stato un fatto storico lui ne avrebbe avuto gloria eterna se non vuol altro disse rude ma fatevi vicini venite pure qui nella mia stanza fu certo una scena straordinaria nella camera del parroco lui seduto allo scrittoio alla luce di una vecchia lampada con la bibbia tra le mani e i due marziani in piedi sul letto perché don pietro li aveva invitati ad accomodarsi che si sedessero sul materasso e insisteva ma quelli a sedere non riuscivano si vede che non erano capaci e tanto per non dir di no alla fine vi erano saliti stando viritti il ciuffo più che mai irto e ondeggiante ascoltate spazzolini disse il prete brusco aprendo il libro e lesse l'eterno iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'eden e diede questo comandamento mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo sarà la tua morte poi l'eterno iddio le vogli sguardi dalla pagina e vide che i due ciuffi erano in estrema agitazione c'è qualcosa che non va e dimmi l'avete mangiato invece non avete saputo resistere è andata così vero già ne mangiarono ammise il prete e la voce gli si riempì di collera avrei voluto vedere voi è forse cresciuto in casa vostra l'albero del bene e del male certo è cresciuto anche da noi milioni e milioni di anni fa adesso è ancora verde e voi i frutti dico non li avete mai assaggiati mai disse lo straniero la legge lo proibisce don pietro ansimo umiliato allora quei due erano puri simili agli angeli del cielo non conoscevano peccato non sapevano che cosa fosse cattiveria odio menzogna si guardò intorno come cercando aiuto finché scorse nella penombra sopra il letto il crocefisso nero si rianimò sì per quel frutto ci siamo rovinati ma il figlio di dio tuonò e sentiva un groppo in gola il figlio di dio si è fatto uomo ed è sceso qui tra noi l'altro stava impassibile solo il suo ciuffo dondolava da una parte dall'altra simile ad una beffarda fiamma è venuto qui in terra dici e voi che ne avete fatto lo avete proclamato vostro re se non sbaglio tu dicevi che era morto in croce lo avete ucciso dunque don pietro lottava fieramente da allora sono passati quasi duemila anni proprio per noi è morto per la nostra vita eterna tacque non sapeva più che dire e nell'angolo scuro le misteriose capigliature dei due ardevano veramente ardevano di una straordinaria luce ci fu silenzio e allora di fuori si udì il canto dei grilli e tutto questo domandò ancora il marziano con la pazienza di un maestro tutto questo è poi servito don pietro non parlò si limitò a fare un gesto con la destra sconsolato come per dire che vuoi siamo fatti così peccatori siamo poveri vermi peccatori che hanno bisogno della pietà di dio e qui cadde in ginocchio coprendosi la faccia con le mani quanto tempo passò ore minuti don pietro fu riscosso dalla voce degli ospiti alzò gli occhi e li scorse già sul davanzale in procinto si sarebbe detto di partire contro il cielo della notte i due ciuffi tremolavano con affascinante grazia uomo domandò il solito dei due che stai facendo che sto facendo prego voi no voi non pregate pregare noi e perché pregare neanche dio non lo pregate mai ma no disse la strana creatura e chissà come la sua corona vivida cessò all'improvviso di tremare facendosi floscia e scolorita o poveretti mormorò don pietro ma in maniera che i due non lo udissero come si fa con i malati gravi si levò in piedi il sangue riprese a correre con forza su e giù per le sue vene si era sentito un bruco poco fa e adesso era felice ridacchiava dentro di sé voi non avete il peccato originale con tutte le sue complicazioni galantuomini sapienti incensurati il demonio non lo avete mai incontrato quando però scende la sera vorrei sapere come vi sentite maledettamente soli presumo morti di inutilità e di tedio i due intanto si erano già infilati dentro allo sportello lo avevano chiuso e il motore già girava con un sordo e armoniosissimo ronzio piano piano quasi per miracolo il disco si staccò dal tetto alzandosi come fosse un palloncino poi prese a girare su se stesso partì a velocità incredibile su su in direzione dei gemelli continuava a brontolare il prete dio preferisce noi di certo meglio dei porci come noi dopotutto avidi turpi mentitori piuttosto che quei primi della classe che mai gli rivolgono la parola che soddisfazione può avere dio da gente simile e che significa la vita se non c'è il male e il rimorso e il pianto per la gioia imbracciò lo schioppo mirò al disco volante che era ormai un puntolino pallido in mezzo al firmamento lasciò partire un colpo e dai remoti colli rispose l'ululio dei cani